Allora Alessandra, questa è la persa sempre questa sfida, dimmela la verità Mi voleva la tua? Insieme ce la faremo? Ce la faremo insieme? Ma come funziona queste pellacchie? Piantala, che pianto? Che pianto? Non mi dici pianta, pianta Questo? No! Che faccio? Dimi le cose qui Ah ma che so, grampi di lancio? Ma non mi lascia spiegare il colpo, non mi lanciarlo negli zombie Ma come funziona? Prima tocco qui, poi tocco qui Ale! Ma che ne vanno a cercare tutti? Oh questo è quello che ho messo sempre, proprio qui, bello, guarda la panocchia che vuoi, ma se le vedi ricaricata? No, eh sì Quello Ah, vedi posso scegliere, toccando col dito, buono, posso scegliere dove piantarlo, qua Rampi di lancio Rampi di lancio Un altro lì Ottimo Oh questo corre Questo è quello, ma io non lo ammazziamo E qui, che Alessandro stavo messi male, eh? Oh questi stanno a correre, che ponte? Che ponte? Che ponte da noi? Ma io l'ammazzato L'ammazzato Eh capirai, l'ammazzato nello solo Capirai, guarda Oh Alessandro, mi tocca rifarla Apriamo perché ho spiegato il colpo, quindi non tocca spiegare niente Eh sì Dai su, sei entrato, magna il cervello, tieni le mani tu, che mi hanno una mano il cervello Tieni le mani tu, aia Ma io mi sono piccolo Qua, pronti a sparargli, eh? Pronti a sparargli Zitti Oddio a mamma di stare zitta Ecco, io comincio a sparargli subito Subito lo sparo, capito? Così mi do tempo di ricaricarsi, non perdo tempo, volete Ed adesso questo, subito qui Queste sono basi dimissime, ci vuole il tempo per ricaricarsi Bisogna utilizzarle prima possibile In maniera tale che Gli diamo più tempo possibile per ricaricarsi E siamo in vantaggio con i versi Adesso siamo tutti e quattro uochi Siamo in vantaggio con i versi 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 Stiamo facendo video, eh? Siamo in vantaggio con i versi 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 Sì, ho scoperto una cosa che forse ci salva Cioè anche il burro, capito? Non so come funziona il burro Però li possiamo imburrare Infatti quello matto diceva E li puoi imburrare Fanno mangiare il cervello No, 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 ancora No, no, no Aia! Alessandra, vanno mangiare il cervello Riprova Vediamo se posso imburrare Allora, Popcorn Tocca per continuare Tieni a base questi zommi usando le due dita imburrate Ah, devo toccare Popcorn e poi con le dita Dopo che ho toccato Popcorn Tocco gli zommi Lascia che prendo Lascia che ne prendo un po' dalle due Spara pannocchie No, è bene Mi devo imburrare le dita con le pannocchie No, ti faccio vedere Tocco le pannocchie Tocco le pannocchie, vedi? Toccate Adesso tocco Tocco i zombetti Sì Venite zombini Tu forza Così tocco Lascio Nooo Nooo Tocco Tocco Devo toccare Tocco la pannocchia E poi dopo l'imburro Guarda Alessandra Allora così si che tu li imburri E poi Mi tolgo e furi E poi Mi tolgo e furi E poi Lo fai E poi Rallentano, ho capito? Allora dopo gliela fai Devi toccare la pannocchia Quella lì che è già sparato Mentre è in attesa E quell'altra E poi Devo Così per Burro 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 Imburro Oh vedi? Oh vedi questo Se l'ho imburrato come va? Imburrato pannocchia Questo imburrato è così So molto più facile da ammazzare Oh Oh Allora ammazzare Burrato Imburrato Imburrato Allora li devo imburro a tutti Ma c'ho le dita Basta che io tocco con le dita Non c'è bisogno che tocco Devo toccare col dito Col dito Non c'è bisogno che tocco la pannocchia Toccavo la pannocchia Non c'ho bisogno di toccare la pannocchia Basta che tocchi il zombie Ti imburro così QuPO Ok Salve Stoje pulero a tutti Però dura poco quelle apparnate Fermi 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 Stoje pulero a tutti Ma devo toccare tanto Per pannocchia Busco Fermo Fermi fermi avanti fermi, 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 ferm fermi, fermi... fermi , abbiamo detto che fermi arrivo al Rolda Finale questa è vicina ab misunder questa è troppo estrema fermi fermi! 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 guarda! vanno distanza! vi stiamo pure a tutti, è troppo estremo! è troppo estremo! è troppo estremo! è troppo estremo! è troppo estremamente estremo! 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 fermi! evo quello diceva! quello grosso non è E' morto qua, fermi, 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 rite imburrate Alessandro, ecco il risultato, rite imburrate, fermi, 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 è rimasto uno, siiii ragazzi, bene il video finisce qua, che devono fare Alessandro, gli devono mettere pollici in su? Mi piace pollici, sennò non mi rivediamo più, e i commenti sotto, che noi ci dirigiamo tutti, ciao, grazie